Felegala, come annunciato, oggi CGL è in campo con questi banchetti a Imperia, ma anche con incontri sul territorio per questi due referendum, voucher e appalti. È così? È proprio così. Oggi siamo in piazza San Giovanni a volantinare per fare informazione proprio sui nostri due referendum. A partire da oggi saremo su tutte le piazze, saremo presenti in maniera capillare sul territorio, maggiormente rafforzati perché proprio ieri il Consiglio dei Ministri ha decretato la data del voto che sarà il 28 di maggio. Quindi il 28 maggio prossimo finalmente potremo votare sì per migliorare il Paese, potremo votare due volte sì per migliorare il lavoro. Migliorare il lavoro sui temi specifici che la CGL ha posto, sono quelli dei voucher e degli appalti e proprio per questo abbiamo bisogno di stare in campo, di farlo in maniera puntuale e precisa per spiegare a tutti di cosa vogliamo parlare, quali sono le esigenze che esistono oggi nel mondo del lavoro. E per questo anche oggi nel pomeriggio saremo in giro a fare assemblee sui posti di lavoro, penso alla Munters tra breve, penso agli appalti a Sanremo di pulizie, di mense che saranno direttamente coinvolti in uno dei temi del referendum. Ma non ci fermeremo ad oggi, saranno tantissime le iniziative davanti alle scuole, davanti in occasione delle manifestazioni sportive, in occasione di ogni evento nel quale ci sia gente. Ancora domani riuniremo tutti i nostri delegati in una giornata di lancio delle attività prossime che la CGL metterà in campo, perché è importante dare a tutti le informazioni, è importante coprire questa discussione di contenuti e non fermarsi al titolo, spiegare a tutti che abbiamo ragione e che c'è la possibilità finalmente di migliorare il lavoro in questo Paese. Ecco, per scendere nell'argomento, c'è questa storia dei voucher e degli appalti, è arrivato nell'imperiese anche Giuseppe Massafra, segretario nazionale della CGL, insieme alla Camusso, quindi insomma una presenza importante e allora andiamo proprio nel merito. Che cosa vuol dire fare un referendum su voucher e appalti, perché? Ma intanto vuol dire stimolare la partecipazione, mettere nelle condizioni il mondo del lavoro e di decidere del proprio futuro. Lo facciamo su due temi importanti che abbiamo considerato anche fortemente simbolici di una precarietà dilagante nel mondo del lavoro. I due quesiti ci parlano dell'abrogazione dei voucher, che è uno strumento abusato, nato per regolare il lavoro occasionale, liberalizzato con l'idea di far emergere il lavoro nero, ma che poi di fatto si è rivelato uno strumento che ha sostituito gran parte del lavoro invece strutturato. 160 milioni di voucher solo nel 2016 danno il senso di un fenomeno che di fatto abbiamo ritenuto e riteniamo essere distorsivo. Sugli appalti il problema qual è? L'altra questione è gli appalti e il ripristino della responsabilità solidale. La crisi di questi ultimi anni ci ha dimostrato come i processi di esternalizzazione del mercato del lavoro hanno prodotto una lunga catena e in questa catena il peso è andato tutto sull'ultimo anello rappresentato dai lavoratori. I lavoratori di un appalto, di un subappalto, sono coloro che spesso nell'esercizio del proprio ruolo, quello simile ai lavoratori dell'azienda committente, si ritrovano però ad avere delle condizioni di maggior disagio, non essere tutelati, ad avere condizioni anche salariali differenti. Ed è per questo che noi crediamo che per risanare, riportare un ciclo virtuoso, la responsabilità solidale dell'azienda committente sia un principio fondamentale da assumere. Riteniamo che quella responsabilità solidale non solo possa migliorare le condizioni di chi lavora nelle catene di appalto, ma possa mettere anche nelle condizioni di avere un mercato sano, un mercato scevro da droghe che vivono sul concetto del massimo ribasso.